Dopo mesi di calma piatta, la campagna vaccinale anti-covid torna a prendere vigore. Da questa mattina nelle Marche è infatti partita la fase di prenotazione delle quarte dosi anche per gli over 60. Una procedura che era già attiva per i soggetti fragili e che da ora si allarga senza precondizioni, al di là di quella che siano trascorsi 120 giorni dalla terza dose o dall'ultima infezione da contagio. Si tratta di una platea di 386.000 persone potenzialmente vaccinabili nelle Marche. Quarte dosi over 60 che partono dopo i tiepidi riscontri fra gli over 80, una categoria in cui si è vaccinato solo il 10% dei marchigiani. È una campagna vaccinale che torna a rimettersi in moto in linea ad una curva di contagi in regione risalita nell'ultimo mese a 30.000 nuovi casi già registrati, ovvero in meno di metà mese più di quanti se ne sono registrati nell'intero giugno o maggio. Risalgono i contagi? Risale gradatamente la domanda di vaccinazione, che però ora va riorganizzata soprattutto su Pesaro, dove l'ex resto dell'Aerosini Center ha cessato la sua funzione di hub con i locali rientrati in possesso del proprietario. L'Asus sta cercando una nuova sistemazione per i vaccini dopo che si prevede un picco di contagi per la fine di luglio, che rimetterà in moto una campagna di vaccinazione alle quarte dosi del tutto simile a quella che ha caratterizzato le più recenti terze dosi. Da oggi dunque gli over 60 possono ricevere la quarta dose, ma non negli hub di Pesaro. Muraglia resta aperta solo per i fragili, ma nella prossima settimana si potrebbe creare la possibilità di nuovi hub, sempre in zona torraccia o a Villa Fastigi. Resta attiva la vaccinazione a Urbino o al Codma di Fano, oltre alla facoltà di vaccinarsi in farmacia o nei presidi dei medici di medicina generale.